Sono già oltre 1600 gli iscritti al forum dei comuni per i beni comuni, l'assemblea pubblica che sabato 28 gennaio per iniziativa del comune di Napoli vedrà riuniti amministratori locali di tutta Italia assieme a studiosi e rappresentanti di movimenti ed associazioni. Il forum partirà alle 10 al teatro Politeama mentre si riuniranno al maschio angioino i tavoli tematici a partire da mezzogiorno. Alle 17 ancora al Politeama per la discussione plenaria e le conclusioni dei lavori. Storia delle vittime della Shoah. In piazza del plebiscito fino al 30 gennaio sarà esposto il carro bestiame in legno nel quale fra il 1943 e il 1944 furono deportati oltre 6000 ebrei italiani verso il campo di sterminio di Auschwitz. Scuole comunali dell'infanzia. Del 24 gennaio al 24 febbraio 2012 si potrà presentare domanda di iscrizione per l'anno scolastico 2012-2013. Requisiti e modalità su www.comune.napoli.it Per la giornata della memoria nel tunnel borbonico a Monte di Dio questa sera 27 gennaio e domani sera alle ore 20 il lavoro teatrale e il sole si spense. Informazioni su www.nartea.com